Liquidare il Berlino in due match è il modo giusto per continuare il cammino nel torneo più importante d'Europa. Già qualificata dopo due parziali, vince anche il terzo con i giovani della seconda squadra ed è semifinale. Sì, siamo molto contenti. Non era del tutto facile perché sappiamo anche all'andata ci hanno messo molto in difficoltà, soprattutto con la loro battuta, hanno dei battitori molto forti. Quindi è stato molto faticoso ma bello e quindi siamo molto felici. Sono anche contento dell'ultimo set in cui abbiamo giocato noi riserve, quelle che giochiamo un po' di meno del solito e siamo riusciti a portarlo a casa anche noi quel set. Adesso che ti aspetti? Perugia, finale tutta italiana, il che vuol dire che comunque un italiano andrà in finale. Sì, sì, questa è una bella notizia però speriamo quale sia delle due. Però sappiamo che è una squadra molto forte, Perugia ci ha messo in tantissime difficoltà in Coppa Italia. Quindi ci stiamo allenando molto bene, ci stiamo cercando di preparare per arrivare al loro livello di gioco perché appunto la Coppa Italia ha dimostrato che eravamo uno step più in giù rispetto a loro. Però appunto, ripeto, ci stiamo allenando molto bene e stiamo cercando di colmare questo gap.